Sai che gli slanci fatti così non servono a nulla? Ti spiego subito perché. Allora, prima di tutto, per l'esecuzione corretta, prendi un piccolo rialzo da mettere sotto al piede che non lavora. Questo ti permetterà di fare bene il movimento in modo tale da non andare a ruotare il bacino quando devi portare sulla gamba. Quindi, importante anche non stare a 90 gradi con il busto sta leggermente su, addome contratto, collo e linea con il corpo. Non stare da troppo in avanti e neanche troppo indietro in questo modo. Ok, posizione comoda. Vado su, tengo anche un secondo di isometria e scendo lenta. E di nuovo. E su. E scendo. Ecco, così sentirai bene lavorare sia glutei che femorali.